E' un gioiello del XVIII secolo, un simbolo della storia locale. Mercoledì mattina è stato firmato l'atto che trasferisce la proprietà del Palazzo Baronale Speranza dalla Curia Fiscovile di Vallo della Lucania al Comune di Alfano. A firmarlo il Sindaco Elena Gerardo e Monsignor Ciro Miniero. E' una data storica, afferma emozionata il primo cittadino, nella quale raccolgo i frutti dell'impegno di questa amministrazione, le stesse energie le spenderemo per ottenere i finanziamenti necessari per la messa in sicurezza e il restauro. L'antico palazzo è un bene di grande rilevanza storica e culturale, non solo per Alfano ma per l'intero territorio limitrofo. Fu donato alla Curia dalla compianta baronessa Esmeralda. Per lungo tempo fu occupato da privati, poi l'abbandono e il degrado. Si tratta di un edificio imponente di 1200 metri quadri, situato nel cuore del paese che l'oblio sta consumando lentamente. Parte del tetto è stato divelto dal vento e alcune parti della struttura rischiano di crollare. Un pezzo di storia che l'amministrazione Gerardo ha puntato a recuperare e restituire alla pubblica utilità. Nel 2017 sono iniziate le trattative con la Curia. Fondamentale, spiega il sindaco, è stata la collaborazione del nostro parroco Don Agnello e di Don Francesco Pecoraro e la sensibilità del Vescovo, che ha compreso che il Palazzo Speranza rappresenta un elemento importante dell'identità storico-culturale della nostra comunità. L'atto, firmato mercoledì, trasferisce il diritto di proprietà al comune e assegna alla locale parrocchia l'uso gratuito dei locali a pian terreno. L'amministrazione è già al lavoro per presentare un progetto per il recupero dello storico palazzo. È nostro dovere, afferma Elena Gerardo, fare in modo che possa ritornare agli antichi splendori e rappresentare un'opportunità di crescita sociale e culturale. Grazie a tutti.